Usa una piattaforma di lancio a sponde del saccheggio e tana strana Allora vi consiglio di atterrare qua nella testa gigante del leader della squadra delle coccole Naturalmente potete usare anche le altre piattaforme di lancio che trovate qua sparse in giro Vi consiglio comunque questa nella testa gigante perché con un salto come vedete potete riuscire ad arrivare fino a sponde del saccheggio Direttamente qua trovate la prossima piattaforma di lancio vi mostro ancora sulla cartina dove